Ciao amici di Italia Top Games, buongiorno e buona domenica. Avevo detto che non ci sarebbero stati nuovi video per il football 2022, ma sono successe delle cose molto interessanti. Più che altro sono arrivate delle nuove segnalazioni del nuovo protagonista di questo canale da qualche settimana a questa parte. Più citato di Renan Galvani ed è difficile su questo canale, ma Mauri D sta facendo un lavoro incredibile nelle ultime settimane di segnalazioni e io, anche se oggi volevo riposarmi a fare video, mi sono sentito in dovere di informarvi quanto prima. Allora, la prima segnalazione è la conferma che Konami sta sempre di più mostrando il logo di Football 2022 sulle proprie squadre partner. Ieri la Lazio ha postato questo video per svelare la formazione iniziale con cui avrebbe affrontato il Sassuolo e come potete vedere qui in mezzo c'è Powered by eFootball 2022. La campagna marketing di Konami sta andando sempre più forte, sta andando sempre più in crescere, in divenire, secondo me è la riconferma che non dovrebbe mancare molto all'uscita di questo Benedetta Update 1.0 che per noi giocatori significa avere finalmente delle modalità di gioco, per Konami significa iniziare a guadagnare qualcosa, perché fino ad oggi, lo ribadisco, eccolo qui, Powered by Football 2022, Konami non ha guadagnato un centesimo dai Football 2022. Questa visibilità sempre crescente è il segnale che, secondo me, qualcosa sta per succedere, anche perché abbiamo avuto all'ennesima conferma che l'update arriva entro la primavera, qui la primavera oramai è entrata da due settimane, e quindi speriamo, speriamo davvero che questa situazione cambi quanto prima. Ma soprattutto Mauri D. ci dice questa cosa qui. Bundesliga Update, aggiornamento Update. Ho analizzato il commento francese, tedesco, italiano, giapponese e spagnolo di Football 2022 e i call names delle nuove 18 squadre tedesche sono incluse. Possibile che sia una coincidenza? Allora, secondo me no, rispondo a Mauri e dico secondo me no. Io aggiungo tre elementi all'importantissima segnalazione di Mauri D. che ci può aiutare a capire qualche cosina di più, forse, o comunque a contestualizzare meglio questa scoperta incredibile di Mauri D. La prima è che la Bundesliga, dal 2018 comunque, non è più del tutto esclusiva di FIFA. In Football Manager 2019, nel capitolo successivo fino a quest'anno, è stata inclusa la Bundesliga come licenza anche nel gioco di Sports Interactive. Quindi questo non è che ci dice che sicuramente in Football 2022 c'è la Bundesliga, ma quell'esclusiva totale che aveva prima FIFA da qualche anno non c'è più. E questo lo mettiamo da una parte. A proposito, se volete una copia in regalo di Football Manager 2022, giovedì prossimo il TG Tech ve ne regala uno. Tutti i dettagli li trovate su VideoGiocare Gratis, su Italia Top Games, nella zona community del canale, ci sono i link, quindi non perdete l'occasione. Unpassam vi ho detto anche questo. Altra cosa che qualcuno ha risposto a Mauri D come commento, ha detto sì, ci sta, però non è che sono per le versioni mobile di Football 2022 che i diritti vengono venduti separatamente, è un'ipotesi fattibile. Secondo me anche questa può essere un'ipotesi fattibile, che effettivamente ci saranno le squadre della Bundesliga, potrebbero esserci soltanto nelle versioni mobile. È molto strano, sostanzialmente, perché se penso al crossplay cosa succede? Però mettiamolo anche lì da una parte, i diritti spesso vengono venduti da una parte per PC console, da una parte mobile. Sarebbe molto strano con i Football, perché, ripeto, ci sarà questa integrazione del gioco, però non è da escludere a priori. Ecco, non capisco bene come possano implementare la questione, cioè su mobile CLI e poi il crossplay come funziona. Ci sono i diritti sulla versione mobile, sulla versione PC console. Quindi, non lo so, la metto lì come elemento. Mi sembra poco implementabile. E l'ultima opzione, e questa secondo me è anche da prendere in considerazione, è che qualcuno attento, che conosce bene il calcio tedesco, ha segnalato che di questi 17 team tedeschi che Mauri D. aveva presentato, eccole qui, non tutti sono della Serie A tedesca. Alcune squadre sono della seconda divisione. Questo ci potrebbe far pensare ad una terza ipotesi, ovvero che Konami sta prendendo i diritti squadra per squadra e non avrà i diritti del campionato, ma potrà utilizzare le squadre per squadra per squadra. Se magari è cambiato qualcosa nel legamento della Bundesliga, che prima invece vendeva il pacchetto completo, magari, come ha già i diritti del Bayern Monaco, acquisisce anche i diritti di queste squadre tedesche, come ipotesi. Ripeto, niente di ufficiale, lo ripeto per l'ennesima volta, perché è fondamentale farlo presente. Non c'è nulla di ufficiale, però c'è questa scoperta incredibile di Mauri D., che, ripeto, ha inoltre trovato questo elemento ulteriore del fatto che queste 17 call names di squadre tedesche sono anche sul commento francese, tedesco, italiano, giapponese e spagnolo. Non ci sono già ora, ma sono state inserite, implementate, per quando saranno poi anche dette dai commentatori. Quindi si sta lavorando e abbiamo letto che, ad esempio, in Brasile sono già entrati negli studi, magari anche Caressa e Marchegiani sono entrati negli studi, ma non l'abbiamo saputo, per un'implementazione della telecronaca di Football 2022. Staremo a vedere. Io non posso che ringraziare Mauri D. per questo incredibile lavoro che sta facendo. Ringrazio voi per aver seguito questo video. Se volete iscrivervi al canale e ancora non l'avete fatto, cosa state aspettando? Iscrivetevi subito, così ricevete tutte le notifiche di come va online un nuovo video sul canale di Italia Talk Games. e potete anche abbonarvi al canale se volete supportarlo in maniera concreta oppure fare i vostri acquisti su Amazon passando per il link di affiliazione che trovate all'inizio e alla descrizione del video. A voi non costa un centesimo di più, basta che cliccate lì, poi si apre Amazon, fate gli acquisti che volete di ogni genere. Ripeto, a voi non costa un centesimo di più e ci supportate concretamente per le spese di gestione del canale, per le spese vive come l'energia, il tempo che ci vuole per fare video, per fare articoli, per fare recensioni. Vi auguro ancora buona domenica e fatemi sapere cosa ne pensate di questo grande update di Mauri D. sulla Bundesliga. Ciao!